Poi abbiamo approfittato un buon momento dove loro stanno in difficoltà, ne abbiamo fatto bene dal primo minuto, sapevamo che magari saranno un po' stanchi, hanno fatto alcuni cambi e comunque se entra questo, se entra questo è sempre uguale, loro hanno 20 giocatori fortissimi, abbiamo fatto benissimo, loro potevano andare in vantaggio, noi potevamo andare in vantaggio, secondo me è stata una bellissima partita, tante occasioni, loro potevano fare qualcosa e mi hanno fatto una bella parata, noi alla fine potevamo fare ancora il terzo o quarto gol, quindi per questo sono contento che noi stiamo creando le occasioni. Un traguardo è benissimo, sicuramente ancora voglio migliorare, ma sono più contento che la squadra ha ottenuto, questi tre punti sono sempre fondamentali perché devi cercare di vincere, soprattutto in questo periodo quando magari non puoi fare Europa, non puoi fare queste cose, ma oggi abbiamo giocato con la mentalità giusta, con la non precisione, però con la consapevolezza che noi possiamo battere queste squadre. Il giorno di andata abbiamo battuto Atalanta, abbiamo battuto Inter, adesso abbiamo battuto Roma, la prossima Inter ci proviamo a fare tutto, ma l'Inter è sicuramente una grandissima squadra, hanno perso due volte soltanto, quindi se li battiamo due volte sarebbe un po' un miracolo. Sicuramente quando batti questa squadra del genere, tipo Roma-Inter, ti dà la carica, ma a prescindere da chiunque batti vuoi cercare sempre di vincere per i nostri rifosi, per il nostro popolo, per noi stessi, quindi questo è importante. Mi sembra stesso gol rispetto a Napoli, se vi ricordate anche lui mi ha messo una bellissima pala, poi io ho cercato, questa volta stavo cercando sul primo palo, sulla gamba, perché lui era appoggiato così, e sapevo che lui cercasse con il secondo palo, quindi sono riuscito abbastanza bene, però identico contro Napoli. Voglio dedicare questo gol a un uomo, non voglio dire nome, lui lo sa benissimo, sta lottando con la malattia, con la cosa, c'è calcio, c'è tutto, però la famiglia, il saluto è più importante, e questo gol è per te, spero che riuscirai a attraversare questo momento e questo gol è per te, ti voglio bene.